GP di Francia del Moto Mondiale, il GP che si è corso a Le Mans domenica 11 ottobre, Racing Podcast, il giorno dopo per parlare di campionati mondiali delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3 che si sono di fatto riaperti o comunque vedono una classifica molto corta e parleremo anche di un titolo assegnato ovvero quello della MotoE che ha chiuso la stagione 2020 con il titolo assegnato a Jordi Torres. Racing Podcast sul Moto Mondiale è uscito due giorni dopo in ogni caso perché domenica ho parlato della Formula 1 per il record eguagliato di Hamilton di Schumacher e poi lunedì invece ho parlato della Major League Baseball, dei playoff che sono arrivati nella fase più calda nell'accesso alle World Series e dunque vi invito a recuperare entrambi quei video. Intanto parliamo del Moto Mondiale e parliamo di Le Mans perché le tre classi Moto2, MotoGP e Moto3 hanno avuto gare totalmente diverse e campionati totalmente riaperti. Una Moto3 che ha corso sull'asciutto, una MotoGP e una Moto2 che ha corso invece sul bagnato e una Moto2 che ha concluso in condizioni miste per dei campionati che hanno avuto tanti ribaltamenti e tanti vincitori diversi a partire dalla MotoGP dove trionfa la Ducati ma non è la Ducati Lido Vizioso bensì è Danilo Petrucci che conquista la sua seconda vittoria in carriera con la moto di Borgo Panigale. Il podio è un podio di culto mi verrebbe da dire perché vince Danilo Petrucci in uscita verso KTM, seconda posizione per Alex Marquez che sul bagnato si ricorda di essere un pilota e terza posizione per Polizio Espargarò che torna ai fasti del Gran Premio di inizio stagione e conquista l'ennesimo podio per una KTM che in queste condizioni si è ovviamente risollevata. È il podio evidentemente dei maghi della pioggia, degli specialisti del bagnato e mancano alcuni protagonisti in realtà. In queste prime tre posizioni per esempio manca Andrea Dovizioso che è finito quarto, manca Jack Miller che anche lui è un mago della pioggia e purtroppo si è ritirato, sono mancate totalmente le Yamaha ed è anche per questo che il campionato si è riaperto. È stata una gara di moto mondiale categoria MotoGP ovviamente veramente interessante e ha veramente fatto riscoprire che Petrucci nonostante una stagione difficoltosa se ci sono le condizioni giuste può essere un pilota tutt'altro che fermo e il bagnato nella dimostrazione. Sorprende incredibilmente Alex Marquez che lo reputo comunque un pilota che non merita di stare quantomeno in un onda ufficiale, in ogni caso sul bagnato ha dimostrato di esserci, in ogni caso Alex Marquez per l'anno prossimo farà il passo indietro e andrà sempre in MotoGP ma nella onda cliente del team di Lucio Cecchinello. Un altro protagonista che è mancato a proposito della onda di Cecchinello è stato Carl Crutchlow che purtroppo è caduto e poteva riscattarsi dopo essersi presentato in condizioni convalescenti al Gb di Francia. Non sorprende invece Polizio e Spargerò perché è uno specialista del bagnato e il primo podio sulla KTM lo conquistò proprio in condizioni di bagnato a Valencia nella gara che fu famosa per quanto riguarda la Moto3 per la vittoria di Canoncu, pilota turco che adesso corre nel World Supersport. Ma in ogni caso è un campionato del mondo MotoGP che ancora una volta rimane aperto perché i piloti di testa tranne Dovizioso e di fatto pochi altri fanno veramente fatica, in particolare le Yamaha perché vediamo il leader del campionato Fabio Quartarolo che finisce nono, vediamo Hoan Mir che finisce undicesimo, Maveri Fignales ancora una volta fa una gara in colore e finisce decimo, Franco Morbidelli si ritira, Jack Miller si ritira. Insomma c'è stato veramente un ennesimo rimescolamento di kart in questo campionato MotoGP pazzo che senza marca sta facendo vedere cosa possono fare tutti i piloti. Sembra quasi un campionato Moto3 da quanto equilibrio ci sia, non dovrebbe essere per forza così nel senso che la MotoGP dovrebbe avere il suo go to guy, il pilota da battere e non così tanto livellamento perché un campionato dove vincono piloti diversi ogni gara effettivamente ricorda molto la Moto3. In ogni caso stiamo vivendo un campionato molto bello, un campionato che incredibilmente ha rimesso in gioco Andrea Dovizioso, un Andrea Dovizioso che fa quarto e che fino alla gara scorsa sembrava letteralmente tagliato fuori, da meno 26 punti di fatto passa a uno svantaggio che comunque è sui 18 punti più o meno. In ogni caso attenzione ad Andrea Dovizioso che se trova il feeling che ha trovato Aleman è ancora matematicamente in corso in questo stranissimo campionato del mondo. In un campionato del mondo che appunto ha visto trionfare piloti che non c'entrano niente con la classifica generale. Petrucci appunto in primis, per lui suona Fatale d'Italia, Alex Marquez che fa il suo primo podi in carriera e nonostante questo rimane 14esimo in classifica generale. Terza posizione per Polizio Spargaro che lui invece di podi ne ha fatti purtroppo paga anche lui una incostanza pazzesca non ai livelli di Vignales ma alterna prestazioni incredibili come i podi. Ha degli zero pazzeschi come appunto quelli in Stiria, quelli in Repubblica Ceca e in Catalonia. Negli altri piazzamenti, Andrea Dovizioso abbiamo detto quarto, quinta posizione per Johan Zarco che con la Ducati del team Avintia rimonta dalle retrovie e finisce appunto in top 5. Sesta posizione per quanto riguarda Miguel Oliveira, portoghese della KTM, settima posizione per Takaki Nakagami, ottava posizione per Stefan Bradel che con la Honda del fatto collaudatrice riesce a fare top 10. Quindi i primi punti sanziali per il terzo pilota Honda, bravo Stefan Bradel, nona posizione per Quartaro e decimo Maverick Vignales. Gli altri italiani purtroppo male con le cadute di Morbidelli e di Rossi, in realtà Morbidelli ha avuto più un problema tecnico. È un campionato che appunto è ancora riaperto e che avrà dei gran premi molto interessanti. In particolare adesso ci si sposterà in terra iberica perché ci saranno due gran premi a Tarragon, due gran premi a Valencia e si chiuderà a Portimao dove la prossima settimana correrà la Formula 1. In ogni caso abbiamo da assegnare il rider del giorno e per una volta assegniamo il pilota del giorno ad Alex Marquez perché effettivamente sul bagnato ha dimostrato di essere un pilota che non è fermo. È un pilota che un po' cerca un riscatto che difficilmente arriverà perché ovviamente sull'asciutto ha dimostrato di essere un pilota da medio fondo classifica con la onda ufficiale che doveva essere la moto dominatrice di questo campionato col fratello Mark. Alex Marquez ripeto non vale il talento del numero 93, in ogni caso non è un pilota che sul bagnato si fa diciamo superare da tutti, anzi abbiamo capito che evidentemente Di Manico ce l'ha. Certo, Di Manico è un pilota secondo me da punti con costanza ma intesi come punti bassi della classifica, però in ogni caso quando c'è da dar merito a una prestazione sorprendente è giusto rimarcare il rider del giorno, in questo caso Alex Marquez per quanto ovviamente non mi stia simpatico. In ogni caso su Aragon che non dovrebbero esserci condizioni così drammatiche come sotto il diluvio evidentemente il pilota spagnolo tornerà ai suoi livelli e probabilmente vedremo delle moto e dei valori in pista secondo me più importanti rispetto a questa gara che si è sul bagnato ha comunque fatto vedere che le Ducati erano sul pezzo. Sull'asciutto la Ducati è una moto che fa più fatica, bisognerebbe vedere come si appunto si sta trattando le moto di Borgo Panigale alle prossime gare. In un campionato che vede Quartarolo primo con 115 punti, a 10 punti di distacco c'è Hoamir e a 8 punti di distacco da Mir c'è Andrea Dovizioso e poco sotto Maverick e Vignanes. Matematicamente vedo questi quattro piloti ancora in lotta per il titolo mondiale con i primi due leggermente favoriti con Dovizioso che dovrebbe ingranare dei piazzamenti interessanti. Magari con una vittoria in più nelle prossime gare per essere ancora in corsa per il campionato o per tutti gli altri secondo me non ci sono speranze, vedremo cosa ci riserverà il moto mondiale nella prossima gara di Aragon che sarà già questo weekend quindi per il primo gran premio dei due previsti. Quindi se la MotoGP ha ancora il titolo da segnare e così per tutte le altre classi c'è invece una classe che ha segnato il titolo del mondo, meglio in realtà è solo un titolo perché si parla di Coppa del Mondo e parliamo della Coppa del Mondo di Moto E che ha avuto la sua seconda edizione questa stagione, è una stagione anche questa tagliata fatta solo da 7 gare e il campione è questo ragazzo Jordi Torres che ha avuto un passato in MotoGP, un passato soprattutto in Moto2 e in Superbike con la energica del team Pons HP40. va a vincere il titolo della Moto E e dunque lui il secondo vincitore assoluto dietro Matteo Ferrari. Per Jordi Torres suona la marcia reale, suona letteralmente per lui perché appunto vince la prima gara delle due competizioni alemane in una gara che ha visto il leader del campionato fino a questa gara Matteo Ferrari è campione regnante di categoria, ritirarsi dopo un contatto che ha volto anche l'altro contendere ovvero Dominic Gerter, lo svizzero e purtroppo entrambi i piloti di fatto si sono autoesclusi dopo questo grande contatto in gara 1. Torres vince e si porta a casa il titolo gestendo tranquillamente appunto il titolo nella seconda competizione. I podi sono completati da Mike Di Meglio, pilota di casa che ha corso dunque alemane. terza posizione per Niki Tuli che si riscatta e torna a essere il finlandese volante della Moto E che va a vincere anche la gara 2 per concludere in bellezza questa sezione un po' travagliata per lui e dunque per Niki Tuli suona il MAM, l'inno nazionale finlandese. seconda posizione ancora una volta per Mike Di Meglio e terza posizione per Joshua Hook, pilota australiano che nelle condizioni miste di umido e asciutto trova una grande prestazione e trova il primo podio della carriera in Moto E. due parentesi molto importanti prima di passare alla Moto 2 e alla Moto 3, era l'ultima gara in carriera questa della Moto E di Alex De Angelis, il rider sanmarinese ha effettuato due prestazioni a punti, 12esimo e 14esimo per l'ultima gara della carriera del pilota che ha fatto veramente una vita nelle categorie inferiori, ha avuto anche modo di correre in MotoGP, è un pilota che a me è sempre stato simpatico non solo per la nazionalità ma anche perché mi dava l'idea su una persona molto affabile ai microfoni, una persona che avrà sicuramente un futuro nel mondo delle moto evidentemente come coach o come team principal, chi lo sa, in ogni caso queste ultime due gare di Le Manno sono state l'ultima parentesi della carriera del sanmarinese Alex De Angelis, parentesi anche su Maria Herrera che come sapete è nei miei cuori e non solo dal punto di vista tecnico, settima e nona per la pilota spagnola, piazzamenti molto interessanti per Maria Herrera che chiude di fatto in bellezza, anche lei è una stagione comunque difficile dove è sempre andata a punti, anche se in questo è abbastanza facile visto che ci sono 18 piloti al via e arrivano a punti soltanto in 15. Passiamo alle altre categorie in particolare Moto2 e MotoE con una Moto2 che si è di fatto riaperta visto che sul bagnato il leader del mondiale Luca Marini ha fatto veramente fatica e non è arrivato a punti e sul bagnato sono venuti fuori i piloti inglesi, in particolare c'è stato un grandissimo duello tra Sam Lowes e Jake Dickson, purtroppo Jake Dickson cade a tre giri dalla fine e lascia spazio al pilota inglese Sam Lowes che fa il terzo podio consecutivo e va a centrare la prima vittoria in Moto2 dopo 4 anni e anche lui di fatto si riporta in corsa verso il titolo del mondo Moto2, sono 22 soltanto i punti che separano l'inglese da Luca Marini che oggi ha fatto zero, per Sam Lowes il fratello gemello di Alex corre in superbike, suona Gab Save the Queen, seconda posizione per Remy Garner al secondo podio della stagione per il pilota australiano figlio di Wayne e terza posizione per Marco Bezzecchi che di fatto dei tre contender italiani del titolo del mondo Moto2 è quello che si è piazzato meglio, considerato che Bastianini ha fatto undicesimo e si recupera a qualche punto su Luca Marini, il problema è che sono sempre 15 punti di distacco per il bestia di Rimini, Moto2 che appunto così come MotoGP e Moto3 andrà ad Aragon per due gran premi consecutivi, Moto3 che anche in questo caso è ancora aperta e qui è tornato il cambio della leadership in testa al campionato del mondo perché Ayogura fa soltanto nono e Arenas torna in testa al campionato del mondo con il podio, il terzo posto in particolare a Le Mans, 185 punti per il pilota spagnolo che si difende diciamo dai due italiani che hanno trionfato in questa competizione in particolare, prima posizione per Celestino Vietti Ramos del Team Sky VR46 e seconda posizione per Tony Arbolino, pilota milanese del Team Snipers su Honda, è una gara che vedendo anche il piazzamento degli altri ha di fatto riaperto il campionato per gli italiani, visto che appunto Arenas e Augura hanno fatto prestazioni abbastanza incolori, in particolare il giapponese che era in testa al mondiale, Arenas è riuscito a recuperare lo zero precedente e ha i Sars in testa al titolo del mondo, però Celestino Vietti e Tony Arbolino con questi due podi hanno effettivamente approfittato dello scivolone di John McPhee che fa il secondo zero consecutivo allo scozzese e dunque ci sono evidentemente 4-5 contenders per questo mondiale Moto3 che avrà altre 6 gare di fatto a disposizione, anzi 5, per assegnare il titolo per un campionato veramente tanto tanto equilibrato. Un campionato del mondo che vede dunque Arenas primo ma deve guardarsi le spalle non solo da Augura che mi sembra molto in difficoltà ma soprattutto dai piloti italiani Vietti e Arbolino che possono fare tantissimi step in avanti se continuano così in questo campionato folle che è la Moto3, moto mondiale che tornerà tra qualche giorno, domenica ad Aragon e dunque appuntamento al Motorland per un nuovo Racing Podcast. Vi lascio con il podio della MotoGP con la vittoria degli altri che non contendono niente per il campionato comunque Petrucci primo, Marche secondo e Polizia Sporgerò terzo. Il prossimo Racing Podcast uscirà presumibilmente domenica alle 19 ma non sulla MotoGP bensì sulla Superbike che chiuderà il campionato a Estoril e lunedì invece ci aggiorneremo evidentemente con il modo mondiale salvo sorprese dalla Major League Baseball che ha le Champions Series in corso. Fatemi sapere cosa ne pensate, il saluto da parte di me di Torger, ci vediamo dunque al prossimo video.